Davanti a me il mio amico, il banchiere, grande commerciante e monopolista regguardevole. Fumava come chi non ha pensieri. La conversazione, che era andata spegnendosi, giaceva ormai morta tra di noi. Cercai di rianimarla, a caso, servendomi di un'idea che mi passò per la mente, sorridendo mi rivolsi a lui. — Pensi. Alcuni giorni fa mi hanno detto che lei, un tempo, è stato anarchico. — Non è che lo sia stato. Lo sono stato e lo sono. Non sono cambiato a questo riguardo. Sono anarchico. — Questa è buona. Lei anarchico. E in che cosa lei è anarchico? — A meno che non voglia attribuire alla parola un senso differente. — È comune? No, non glielo attribuisco. Uso la parola nel senso comune. — Allora lei vuol dire che è anarchico esattamente, nello stesso senso in cui è anarchica quella gente delle organizzazioni operaie. — Che allora tra lei e quella gente delle bombe e dei sindacati non c'è nessuna differenza. — Differenza. Differenza c'è. È chiaro che c'è differenza. — Ma non è quella che pensa lei. Ritiene forse che le mie teorie sociali siano uguali alle loro. — Ah, ora capisco. Lei in teoria è anarchico. Nella pratica. — Nella pratica sono tanto anarchico quanto lo sono nella teoria. E quanto alla pratica sono più anarchico. Molto di più di quella gente di cui lei ha parlato. — Lo dimostra tutta la mia vita. Eh? Lo dimostra tutta la mia vita, ragazzo mio. Il problema è che lei non ha mai pensato a queste cose con lucida attenzione. Per questo le sembra che stia dicendo una stupidaggine. Oppure che stia prendendomi gioco di lei. — Amico mio, non capisco più nulla. A meno che... A meno che lei non giudichi la sua vita come dissoluta e antisociale e dia all'anarchia questo significato. Le ho già detto di no. Cioè le ho già detto che non attribuisco alla parola anarchia un significato differente dal comune. — Va bene, continuo a non capire. Signore, mi vuol dire che non c'è differenza tra le sue teorie veramente anarchiche e la sua pratica di vita. E allora com'è la sua pratica di vita? Vuole farmi credere che lei ha avuto una vita esattamente uguale a quella delle persone che normalmente definiamo anarchici? — No, non è questo. Quel che voglio dire è che tra le mie teorie e la mia pratica di vita non c'è alcuna divergenza. Bensì una conformità assoluta. Certo non faccio una vita come quella dei tipi dei sindacati e delle bombe, questo è vero. Ma è la loro vita ad essere estranea all'anarchia, estranea ai loro ideali. La mia no. In me sì, in me, banchiere, grande commerciante, monopolista se si vuole, in me la teoria e la pratica dell'anarchia sono unite ed entrambe corrette. Lei mi ha paragonato a quegli sciocchi dei sindacati e delle bombe per dimostrare che sono differente da loro. Lo sono, ma la differenza è questa. Loro? Sì, loro. E non io. Sono anarchici, sono nella teoria. Io sono anarchico nella teoria e nella pratica. Loro sono anarchici e stupidi. Io anarchico intelligente. Cioè, vecchio mio, sono io il vero anarchico. Loro, quelli dei sindacati e delle bombe, anch'io sono stato tra loro e ne sono uscito proprio per la mia pura anarchia. Loro sono la spazzatura dell'anarchia, le femminucce della grande dottrina libertaria. Questa non l'hanno sentita nemmeno all'inferno. È spaventoso. Spaventoso. Ma come concilia la sua vita, voglio dire la sua vita finanziaria e commerciale, con le teorie anarchiche? Come la concilia, si dice che per teorie anarchiche intende proprio quello che intendono gli anarchici comuni. E per di più mi dice che è differente da loro perché è più anarchico di loro, non è vero? Esattamente. Non capisco niente. Ma lei ha intenzione di capire? Tutte le intenzioni. Tira via dalla bocca il sigaro, che si era spento. Lo riaccese lentamente, ostervole il fiammifero che si spegneva. Lo posò con leggerezza sul posacenere. Poi, alzando la testa per un momento china, disse «Ascolti, sono nato dal popolo e nella classe operaia della città. Di buono non ho ereditato, come ben può immaginare, nella condizione sociale e nelle circostanze. Ho avuto solo il dono di avere un'intelligenza lucida e una volontà abbastanza forte. Ma quelli erano doni naturali, che la mia bassa estrazione non poteva togliermi. Sono stato operaio, ho lavorato, ho vissuto una vita di ristrettezze. Sono stato, insomma, quello che la maggior parte della gente è in simili condizioni. Non dico che soffrissi proprio la fame, ma ci sono andato vicino. Del resto avrei potuto anche soffrirla, ma questo non avrebbe cambiato nulla di ciò che è avvenuto poi, o di ciò che le riferirò, né di quello che è stata la mia vita, o di ciò che è adesso. Sono stato un normale operaio, insomma. Come tutti, lavoravo perché dovevo lavorare, e lavoravo il meno possibile. Certo, ero intelligente. Ogni volta che potevo, leggevo, discutevo, e siccome non ero scemo, mi nacque una grande insoddisfazione e una grande rivolta contro il mio destino e contro i condizionamenti sociali che lo rendevano tale. Le ho detto che in verità il mio destino poteva essere stato peggiore di quello che era, però allora mi sembrava che fosse un essere in cui la sorte aveva riunito tutte le ingiustizie e che si era servita delle convenzioni sociali per farlo. Questo avveniva quando avevo circa vent'anni, vent'uno al massimo, che è stato quando sono divenuto anarchico. Si fermò un momento, si girò un po' di più verso di me e riprese, chinandosi ulteriormente. Sono sempre stato più o meno lucido. Mi sentivo un oppositore. Volli capire la mia rivolta. Diveni anarchico cosciente e convinto. L'anarchico cosciente e convinto che sono oggi. E la teoria che segue oggi? È la stessa che seguiva allora? La stessa. La teoria anarchica, la vera teoria, è solo una. Seguo quella che ho sempre seguito da quando sono divenuto anarchico. Vedrà. Dicevo che, siccome ero lucido per natura, divenni anarchico cosciente. Dunque, che cos'è un anarchico? È un oppositore dell'ingiustizia di nascere socialmente diseguali. In fondo è solo questo. E da ciò risulta evidentemente la rivolta contro le convenzioni sociali che rendono possibile quella disuguaglianza. Quello che adesso le sto indicando è un cammino psicologico, e cioè, com'è che la gente diviene anarchica? E ora, arriviamo subito all'aspetto teorico del problema. Per adesso capisca bene quale sarebbe la rivolta di un tipo intelligente nelle mie circostanze. Che cosa vede nel mondo? Uno nasce figlio di un milionario, protetto fin dalla culla da quegli infortuni, e non sono pochi, che il denaro può eludere o limitare. Un altro nasce miserabile miserabile, ed è da bambino una bocca in più in una famiglia in cui le bocche sono troppe per il cibo che c'è. Uno nasce conte o marchese, e per questo è tenuto in considerazione da tutti. Faccia quel che faccia. Un altro nasce così, come me, ed è verigartritto come un fuso per essere trattato almeno come persona. Alcuni nascono in condizioni tali che possono studiare, viaggiare, istruirsi, diventare per così dire più intelligenti di altri che per natura lo sono di più. E così via, e per tutto. Insomma, le ingiustizie della natura non le possiamo evitare. Invece, quelle della società o delle sue convenzioni, quelle, perché non evitarle? Ammetto, del resto non posso fare altrimenti, che un uomo mi sia superiore per quello che la natura gli ha dato, il talento, la forza, l'energia. Non accetto che egli mi sia superiore per qualità artificiali, con le quali non è uscito dal ventre della madre, ma che gli sono capitate per sorte, non appena è venuto alla luce. La ricchezza, la posizione sociale, la vita facilitata, eccetera. È stata per rivolta a queste considerazioni che le sto esponendo, che è nata la mia anarchia di allora. L'anarchia che le ho già detto, conservo oggi senza alcuna alterazione. Si fermò un'altra volta per un attimo, quasi a pensare come avrebbe proseguito. Aspirò e soffiò lentamente il fumo, verso il lato opposto al mio. Si voltò e stava per proseguire, ma lo interruppi. Una domanda per curiosità. Perché è diventato proprio anarchico? Poteva diventare socialista o qualche altra cosa progredita che non si spingesse tanto lontano? Tutto questo rientrava nella sua rivolta. Deduco da quel che ha detto che per anarchia lei intende, e penso che sia esatta come definizione di anarchia, la rivolta contro tutte le convenzioni e formule sociali e il desiderio e lo sforzo per l'abolizione di tutte. Proprio questo. Perché ha scelto questa formula estrema e non ha deciso in favore delle altre? Intermedie. Le dico. Ho meditato su tutto questo. È chiaro che negli opuscoli che leggevo trovavo tutte quelle teorie. Ho scelto la teoria anarchica, la teoria estrema, come ha detto molto bene, per le ragioni che le dirò in due parole. Fissò un momento nel vuoto, poi si girò verso di me. Il vero male, l'unico male, sono le convenzioni e le finzioni sociali che si sovrappongono alle realtà naturali. Tutto dalla famiglia al denaro, dalla religione allo Stato. Si nasce uomo o donna, voglio dire, si nasce per essere da adulti uomo o donna. Non si nasce a buon diritto naturale, né per essere marito, né per essere ricco o povero, come non si nasce per essere cattolico o protestante, o portoghese o inglese, se è tutte queste cose in virtù delle funzioni sociali. Ora, queste finzioni sociali, perché sono negative? Perché sono finzioni? Perché non sono naturali? È negativo tanto il denaro che lo Stato, l'istituzione familiare come le religioni. Se se ne fossero altre che non fossero queste, sarebbero ugualmente negative. Perché sarebbero anch'esse finzioni? Perché anch'esse si sovrapporrebbero e disturberebbero le realtà naturali. Dunque, qualunque sistema che non sia il puro sistema anarchico, il quale si prefigge l'abolizione di tutte le finzioni e di ciascuna di esse totalmente, è anch'esso una finzione. Usare tutta la nostra volontà, tutti i nostri sforzi, tutta la nostra intelligenza, per creare o contribuire a creare una finzione sociale invece di un'altra, è un assurdo quando non è addirittura un crimine, perché è realizzare una perturbazione sociale con il fine esplicito di mantenere tutto uguale. Se riteniamo ingiuste le finzioni sociali, perché schiacciano e opprimono quel che è naturale nell'uomo, ha quel fine ad operarci per sostituirle con altre finzioni, quando possiamo agire per distruggerle tutte. Questo sì che mi sembra produttivo, ma supponiamo che non lo sia, supponiamo che ci obiettino che tutto questo sia molto bello, ma che il sistema anarchico non è realizzabile nella pratica. Proviamo a esaminare questo aspetto del problema. Perché il sistema anarchico non sarebbe realizzabile? Tutti noi progressisti partiamo dal principio che il sistema attuale non solo è ingiusto, ma che affinché ci sia equità è vantaggioso sostituirlo con un altro più equo. Se non la pensiamo così, non siamo progressisti ma borghesi. Bene, da dove proviene questo concetto di equità? Da ciò che è naturale e vero in opposizione alle finzioni sociali e alle menzogne delle convenzioni. Ora, quello che è naturale è ciò che è interamente naturale, non ciò che è a metà, o un quarto o un ottavo del naturale. Molto bene. Allora una delle due, o la natura è realizzabile socialmente, o non lo è. In altri termini, o la società può essere naturale, o la società è fondamentalmente finzione e non può essere naturale in alcun modo. Se la società può essere naturale, allora può esistere una società anarchica, o libera, e deve esserci perché essa, la società, è totalmente naturale. Se la società non può essere naturale, se per qualche ragione, che qui non interessa, deve per forza essere finzione, allora dei due mali il minore. Rendiamola, all'interno di questa finzione inevitabile, la più naturale possibile, affinché sia per questa stessa ragione la più giusta possibile. Qual è la finzione più naturale? Nessuna in sé è naturale, in quanto è finzione. La più naturale, nel nostro caso, sarà quella che sembrerà più naturale, che sentiremo come più naturale. Quale sembra la più naturale, o sentiamo come più naturale? E' quello a cui siamo abituati. Capisce? La natura è legata all'istinto, e tutto quello che pur non essendo istinto, sembra esserlo, è abitudine. Fumare non è naturale, non è una necessità dell'istinto, ma se ci abituiamo a fumare, ci diviene naturale, viene sentito come una necessità dell'istinto. Bene, qual è la finzione sociale, che costituisce una nostra abitudine? E' il sistema attuale, il sistema borghese. Ecco dunque, in conseguenza logica, fumare non è naturale, non è una necessità dell'istinto, ma se ci abituiamo a fumare, ci diviene naturale, viene sentito come una necessità dell'istinto. Bene, qual è la funzione sociale, che costituisce una nostra abitudine? E' il sistema attuale, il sistema borghese. Ecco dunque, in conseguenza logica, che o riteniamo possibile la società di natura, o saremo difensori dell'anarchia, oppure non la riteniamo possibile, e saremo difensori del regime borghese. Non c'è ipotesi intermedia, capisce? Sì signore, è un ragionamento convincente, e invece non è convincente. C'è ancora un'altra obiezione dello stesso genere cui rispondere. Si può concordare che il sistema anarchico è realizzabile, ma si può dubitare che sia realizzabile di colpo, cioè che si possa passare dalla società borghese alla società libera, senza che ci siano uno o più stati o regimi intermedi. Gli fa questa obiezione, accetta per buona e realizzabile, la società anarchica, ma gli sovviene che deve esserci uno stato qualunque di transizione tra la società borghese e quella anarchica. Benissimo, supponiamo che sia così. Qual è quello stato intermedio? Il nostro fine è la società anarchica, o libera. Quello stato intermedio può essere solo dunque uno stato di preparazione dell'umanità alla società libera. Tale preparazione o è materiale, o è semplicemente mentale, e cioè o è una serie di realizzazioni materiali o sociali che adattino l'umanità alla società libera, o è una semplice propaganda che cresce e influenza gradualmente, che prepara mentalmente a desiderare o accettare la società libera. Esaminiamo la prima ipotesi, l'adattamento graduale e materiale dell'umanità alla società libera. È impossibile, è più che impossibile, è assurda. non c'è adattamento mentale se non è una cosa che già c'è. Nessuno di noi si può adattare materialmente alla società del ventitraesimo secolo, anche sapendo come sarà, e non si può adattare materialmente perché il ventitraesimo secolo e la sua società ancora non esistono materialmente. Così, arriviamo alla conclusione che, nel passaggio dalla società borghese a quella libera, l'unico adattamento che può esserci, sia esso di evoluzione o di transizione, è mentale. È il graduale adattamento delle menti all'idea della società libera. In ogni caso, nel campo dell'adattamento materiale, c'è ancora una ipotesi. Uffa! Con tutte queste ipotesi! Ragazzo, l'uomo lucido deve esaminare tutte le obiezioni possibili e le deve refutare prima di potersi dire sicuro della sua dottrina. E in fondo sto solo rispondendo a una domanda che mi hai fatto. Va bene. Nel campo dell'adattamento materiale, dicevo, c'è in ogni caso un'altra ipotesi. È quella della dittatura rivoluzionaria. Come della dittatura rivoluzionaria? Come le ho già spiegato, non ci può essere adattamento materiale a una cosa che materialmente non esiste ancora. Ma se grazie a una sommossa improvvisa si compisso una rivoluzione sociale, si instaurerebbe non già la società libera, perché per quella l'umanità non può ancora essere preparata, ma una dittatura di quelle che vogliono instaurare una società libera. Ma esisterebbe già, sia pure in abbozzo o all'inizio, esisterebbe già materialmente qualcosa della società libera. Ci sarebbe già dunque una cosa materiale a cui l'umanità si potrebbe adattare. È questo l'argomento che i bestioni che difendono la dittatura del proletariato difenderebbero se fossero capaci di argomentare o di pensare. L'argomento è ovvio, non è loro, è mio. Lo pongo a me stesso come obiezione e come le dimostrerò è falso. Un regime rivoluzionario, mentre esiste, e qualunque sia il fine cui mira o l'idea che lo guida, è materialmente solo una cosa, un regime rivoluzionario. Ora, regime rivoluzionario significa dittatura di guerra o in parole chiare regime militare dispotico, perché lo stato di guerra è imposto alla società da una sua componente, quella parte che ha assunto rivoluzionariamente il potere. Qual è il risultato? Il risultato è che adattarsi a quel regime, poiché la sola cosa che esso è materialmente, immediatamente ad essere un regime militare dispotico, vuol dire adattarsi a un regime militare dispotico. L'idea che ha guidato i rivoluzionari, il fine cui hanno mirato è scomparso completamente dalla realtà sociale, che è occupata esclusivamente dal fenomeno bellico. Dunque, quel che proviene da una dittatura rivoluzionaria, e tanto più quanto più durita la dittatura, è una società guerriera di tipo dittatoriale, e cioè un dispotismo militare. Né d'altronde potrebbe essere altrimenti. Ed è sempre stato così. Non conosco bene la storia, ma, quel che so, si accorda bene con quanto dico, né poteva essere altrimenti. Cosa è risultato dalle agitazioni politiche di Roma? L'impero romano e il suo dispotismo militare. Cos'è risultato dalla rivoluzione francese? Napoleone e il suo dispotismo militare. E vedrà cosa risulterà dalla rivoluzione russa. Qualcosa che ritarderà di decenni la realizzazione della società libera. Del resto, cosa ci si poteva attendere da un popolo di analfabeti e di mistici? Ma qui siamo già fuori argomento. Ha capito il mio ragionamento? Ho capito perfettamente. Lei capisce dunque perché sono giunto a questa conclusione. fine la società anarchica la società libera mezzo il passaggio senza transizione dalla società borghese alla società libera. Questo passaggio sarà preparato e reso possibile da un'intensa propaganda completamente assorbente così da predisporre tutti gli spiriti a indebolire tutte le resistenze. È chiaro che per propaganda non intendo solo la parola scritta e parlata. Intendo tutto quanto azione diretta e indiretta può predisporre alla società libera e indebolire la resistenza al suo avvento. Così non avendo quasi alcuna resistenza da vincere la rivoluzione sociale quando si concretizzasse sarebbe rapida facile e non dovrebbe instaurare nessuna dittatura rivoluzionaria perché non ci sarebbe contro chi applicarla. Se non può essere così allora l'anarchia è irrealizzabile e se l'anarchia è irrealizzabile è giusta e difendibile solo la società borghese come le ho dimostrato. Ecco come e perché sono divenuto anarchico e come e perché ho ricettato in quanto false e contro natura le altre dottrine sociali meno ambiziose. Bene continuiamo la mia storia. Prese un fiammifero e accese lentamente il sigaro. Si concentrò e poco dopo proseguì. C'erano molti altri ragazzi con le mie stesse opinioni. In gran parte erano operai ma ce n'erano anche un paio che non lo erano. Di certo eravamo tutti poveri e che mi ricordi non eravamo molto stupidi. Avevamo una certa volontà di apprendere di conoscere le cose e allo stesso tempo avevamo il desiderio di fare propaganda di diffondere le nostre idee per noi e per gli altri per l'intera umanità. Volevamo una società nuova libera da tutti quei preconcetti che artificialmente rendono gli uomini diversi e gli impongono inferiorità sofferenze ristrettezze che la natura non gli aveva imposte. Quanto a me quello che leggevo mi confortava nelle mie idee. Lessi quasi tutti i libri libertari di poco costo quelli che c'erano a quel tempo chiaro ed erano già abbastanza. Lessi quasi tutto andai a conferenze e i comizi dei propagandisti del tempo ogni libro ogni discorso mi convinceva di più dell'esattezza e della correttezza delle mie idee. Quel che pensavo allora le ripeto mio caro amico è quello che penso oggi la sola differenza è che allora lo pensavo solamente e oggi lo penso e lo attuo. Bene fin qui è giustissimo va benissimo che lei sia diventato anarchico in questo modo e mi è assolutamente chiaro che lei era anarchico non ho bisogno di altre prove quello che voglio sapere è come è stato che ne è uscito un banchiere come è stato che ne è uscito senza contraddizione cioè più o meno ormai penso no non pensi nulla so quello che vuol dire si basa sugli argomenti che ha appena ascoltato da me e pensa che io abbia ritenuto l'anarchia irrealizzabile per questo come le ho detto abbia visto la società borghese come la sola difendibile giusta vero? sì ho pensato che fosse più o meno così ma come sarebbe potuto essere se fin dall'inizio della conversazione le ho detto e ripetuto che sono anarchico che non solo lo sono stato ma che continuo a esserlo se fossi divenuto banchiere e commerciante per la ragione che pensa lei io non sarei stato anarchico ma borghese sì ha ragione ma allora come diavolo avanti continui come le ho detto io ero sono sempre stato più o meno lucido e anche un uomo d'azione sono qualità naturali non me l'hanno messe nella culla se ne ho avuta una sono io che ce le ho portate dunque essendo anarchico trovavo insopportabile esserlo solo passivamente solo per andare a sentire discorsi e parlarne con gli amici no era necessario fare qualcosa era necessario lavorare e lottare per la causa degli oppressi e delle vittime delle convenzioni sociali decisi di impegnarmi su questo per quanto fosse nelle mie forze mi misi a pensare com'era che avrei potuto essere utile alla causa libertaria mi misi a tracciare il mio piano d'azione cosa vuole l'anarchico la libertà la libertà per sé e per gli altri per l'intera umanità vuole essere libero dall'influenza e dalla pressione delle finzioni sociali vuole essere libero così come quando nacque e venne al mondo che è come in verità dovrebbe essere e vuole quella libertà per sé e per tutti gli altri ma nemmeno in natura sono tutti uguali alcuni nascono alti altri bassi alcuni forti altri deboli alcuni intelligenti altri meno ma tutti possono essere uguali da lì in avanti solo le finzioni sociali lo impediscono erano quelle finzioni sociali che dovevano essere distrutte era necessario distruggerle tuttavia non mi sfuggì una cosa era necessario distruggerle ma a vantaggio della libertà e avendo sempre in mente la creazione della società libera perché questa cosa di distruggere le finzioni sociali può avvenire tanto per creare libertà o preparare l'avvento della libertà come per instaurare altre finzioni sociali differenti ugualmente negative perché ugualmente finzioni qui era opportuno avere cautela era necessario cogliere nel segno una serie di azioni violente o non violente che fossero perché contro le ingiustizie sociali tutto era legittimo con cui contribuire alla distruzione delle finzioni sociali senza al contempo intralciare la creazione della libertà futura creando fin da allora se fosse stato possibile un qualcosa della libertà futura è chiaro che questa libertà che deve aver cura di non intralciare è la libertà futura e al presente la libertà degli oppressi dalle finzioni sociali è chiaro che non dobbiamo fare attenzione a non intralciare la libertà dei potenti degli agiati di tutti coloro che rappresentano le finzioni sociali e traggono vantaggio da esse quella loro non è libertà è la libertà di tiranneggiare che è l'opposto della libertà al contrario è ciò che più noi dovevamo pensare di intralciare e combattere mi sembra che questo sia chiaro è chiarissimo continui l'anarchico per chi desidera la libertà per l'umanità intera qual è il modo per dare libertà all'umanità intera distruggere completamente tutte le finzioni sociali come se potrebbe distruggere completamente tutte le finzioni sociali ne ho già anticipato la soluzione quando a causa di una sua domanda ho messo in discussione gli altri sistemi avanzati e le ho spiegato come e perché ero anarchico si ricorda la mia conclusione mi ricordo una rivoluzione sociale improvvisa secca distruttrice che faccia passare la società in un balzo dal regime borghese alla società libera una rivoluzione sociale preparata da un lavoro intenso e continuo con azioni dirette e indirette tendente a disporre tutti gli animi all'avvento della società libera e a indebolire fino allo stato comatoso tutte le resistenze della borghesia evito di ripeterle le ragioni che portano inevitabilmente a questa conclusione all'interno dell'anarchia già gliele ho sposte e lei le ha comprese sì questa rivoluzione preferibilmente dovrebbe essere mondiale simultanea in tutti i luoghi o luoghi importanti del mondo oppure se non fosse così dovremmo rapidamente partire dagli uni verso gli altri ma in tutti i casi in ogni luogo e cioè in ogni nazione fulminante e completa molto bene cosa avrei potuto fare io da solo non avrei potuto fare la rivoluzione mondiale né avrei potuto fare la rivoluzione completa limitatamente al paese dove mi trovavo potevo solo lavorare al massimo delle mie possibilità per preparare questa rivoluzione già le ho spiegato come combattendo con tutti i mezzi possibili e finzioni sociali non ostacolando mai durante questa lotta la propaganda della società libera e la libertà futura o ancora la libertà presente degli oppressi creando subito se possibile una qualche libertà futura espirò il fumo fece una breve pausa ricominciò così amico mio a quel punto mi si immoto il cervello lavorare per il futuro va bene pensai lavorare affinché gli altri conquistino la libertà è corretto ma allora io io non sono nessuno se fossi stato cristiano avrei lavorato allegramente per il futuro altrui perché avrei avuto la mia ricompensa nei cieli ma in quel caso se fossi stato cristiano non sarei stato anarchico perché nella nostra breve vita le disuguaglianze sociali non avrebbero avuto importanza erano solo le condizioni della nostra disgrazia e sarebbero state ricompensate nella vita eterna ma io non ero cristiano come non lo sono oggi e mi domandavo ma perché mi sacrifico in tutto questo e ancora perché mi sacrifico mi assalirono momenti di sfiducia e lei capisce che era giustificata sono materialista pensavo non ho altra vita che questa perché mi devo tormentare con la propaganda e le disuguaglianze sociali e altre faccende quando posso godere e posso divertirmi molto di più se non me ne preoccupo chi non ha altro che la vita presente chi non crede nella vita eterna chi non ammette altra legge se non quella della natura chi si oppone allo stato perché esso non è naturale al matrimonio perché esso non è naturale al denaro perché esso non è naturale a tutte le finzioni sociali perché esso non sono naturali per quale strana ragione difende l'altruismo e il sacrificio in favore degli altri o dell'umanità se anche l'altruismo e il sacrificio non sono naturali sì la logica stessa che mi dimostra che un uomo non nasce per essere sposato o per essere portoghese o per essere ricco o povero mi dimostra anche che egli non nasce per essere solidale che nasce solo per essere se stesso e dunque il contrario dell'altruista e del solidale e dunque esclusivamente egoista ho affrontato il problema con me stesso pensa mi dicevo che nasciamo come appartenenti a una specie umana e che abbiamo il dovere di essere solidali con tutti gli uomini ma l'idea di dovere era naturale da dove veniva questa idea di dovere se questa idea del dovere mi obbligava a sacrificare il mio benessere la mia comodità il mio istinto di conservazione e gli altri miei istinti naturali in cose divergeva l'operato di questa idea dall'operato di qualunque finzione sociale che produce in noi esattamente lo stesso effetto questa idea del dovere cioè della solidarietà umana la potevo considerare naturale solo se avesse portato con sé una compensazione egoistica perché allora malgrado inizialmente si opponesse all'egoismo naturale se in ogni caso dava a quell'egoismo un compenso in fin dei conti non gli si opponeva sacrificare un piacere il semplice sacrificarlo non è naturale sacrificare un piacere per un altro questo sì che è nella natura significa scegliere tra due cose naturali che non si possono avere insieme e questo va bene ma quale compenso egoistico naturale mi poteva dare il dedicarmi alla causa della società libera e della futura felicità umana solo la coscienza del dovere compiuto dello sforzo per un buon fine e nessuna di queste cose è una compensazione egoistica nessuna di queste cose è un piacere in sé ma piuttosto qualora lo sia è un piacere nato da una finzione come può essere il piacere dell'immense ricchezza o il piacere dell'essere nato con una buona posizione sociale vi confesso mio caro che mi assalirono momenti di sfiducia mi sentii sleale nei confronti della mia stessa dottrina suo traditore ma in breve li superai l'idea di giustizia stava qui dentro di me pensai e la sentivo naturale sentivo che c'era un dovere superiore alla preoccupazione per il mio destino e proseguì nei miei intenti non mi sembra che con questa decisione si sia rivelata una prova di grande lucidità da parte sua lei non ha risolto il problema ha proseguito spinto da un impulso assolutamente sentimentale senza dubbio ma quello che le sto raccontando ora è la storia di come sono divenuto anarchico e di come ho continuato ad esserlo e sono le spongo lealmente le esitazioni e le difficoltà che ho avuto e come le ho vinte concordo che allora ho sconfitto la difficoltà logica con il sentimento e non con il raziocinio ma lei vedrà che più tardi quando sono arrivato alla piena comprensione della dottrina anarchica questa difficoltà fino ad allora logicamente senza risposta ha trovato la sua soluzione completa e assoluta è insolito già ma adesso mi lasci continuare nel mio racconto ho incontrato questa difficoltà bene o male come le ho detto l'ho superata subito dopo nel corso dei miei ragionamenti mi si è parata dinnanzi un'altra difficoltà che anch'essa mi ha scosso abbastanza mi andava bene diciamo che fossi disposto a sacrificarmi senza alcuna ricompensa veramente personale e cioè senza alcuna ricompensa veramente naturale ma supponiamo che la società futura non avesse realizzato nulla di quello che speravo che non si sarebbe mai stata una società libera in tal caso perché diavolo mi stavo sacrificando sacrificarmi a un'idea senza ricompensa personale senza guadagnare nulla dal mio lavoro per questa idea passi ma sacrificarmi senza avere almeno la certezza che quello per cui sto lavorando un giorno sarebbe esistito senza che l'idea medesima traesse beneficio dal mio operato questo era un po' troppo fin d'ora le dico che risolsi il problema attraverso lo stesso procedimento sentimentale con cui risolsi l'altro ma l'avverto anche che allo stesso modo che nell'altra occasione lo risolsi attraverso la logica automaticamente quando giunsi allo stato pienamente cosciente del mio essere anarchico dopo capirà al tempo di questo mio racconto usci dalla trappola con un paio di frasi vuote io faccio il mio dovere nei confronti del futuro ma che il futuro faccia il suo nei miei confronti una frase così o qualcosa del genere esposi questa conclusione o anzi queste conclusioni ai miei compagni e tutti concordarono con me concordarono tutti che era necessario andare avanti e fare di tutto per una società libera è vero che uno o due tra i più intelligenti rimasero un po' perplessi del mio ragionamento non perché non concordassero ma perché non avevano mai visto le cose così chiare né i loro spigoli ma infine furono tutti d'accordo avremmo lavorato tutti per la grande rivoluzione sociale per la società libera tanto che il futuro ci giustificasse tanto che non lo facesse formammo un gruppo tra persone fidate e cominciammo una grande propaganda grande e chiaro entro i limiti delle nostre possibilità per un buon periodo tra difficoltà confusioni e a volte indagini lavorammo per l'ideale anarchico il banchiere qui giunto fece una pausa un po' più lunga non accese il sigaro che era di nuovo spento d'improvviso sorrise lievemente e con l'aria di chi arriva al punto importante mi fissò con più insistenza e proseguì schiarendosi di più la voce e scandendo di più le parole a quel tempo disse apparve una cosa nuova a quel tempo è un modo di dire voglio dire che dopo alcuni mesi di propaganda cominciai a far caso a una nuova complicazione e questa era la più seria di tutte questa sì che era veramente seria si ricorda non è vero ciò che con rigoroso ragionamento sostenevo dovesse essere il procedimento d'azione degli anarchici un procedimento o dei procedimenti qualsiasi con cui contribuire alla distruzione delle finzioni sociali senza allo stesso tempo ostacolare la creazione della società futura senza dunque ostacolare in alcun modo la poca libertà di coloro che sono attualmente oppressi dalle finzioni sociali un procedimento che nel limite del possibile creasse già un qualche esempio della libertà futura bene una volta stabilito questo criterio non ho mai smesso di tenerlo presente ora al tempo della nostra attività di propaganda quella di cui la sto parlando scoprì una cosa nel gruppo di propaganda non eravamo molti eravamo una quarantina salvo errori avveniva questo si creava tirannia si creava tirannia si creava tirannia come in questo modo alcuni comandavano sugli altri e ci conducevano dove volevano alcuni si imponevano sugli altri e ci obbligavano ad essere quello che loro volevano alcuni con lusinga inganni trascinavano altri dove essi volevano non dico che lo facessero in situazioni gravi del resto non c'erano situazioni gravi in cui lo potessero fare ma il fatto è che questo avveniva sempre e tutti i giorni e avveniva non solo per problemi legati alla propaganda ma anche al di fuori nelle normali attività della vita alcuni diventavano inconsapevolmente capi altri inconsapevolmente subordinati alcuni erano capi per imposizione altri lo erano per furbizia lo si vedeva nei fatti più semplici della vita per esempio due dei ragazzi camminavano insieme per la strada arrivavano alla fine della via e uno doveva andare a destra e l'altro a sinistra a entrambi faceva comodo andare per la propria strada ma quello che andava a sinistra diceva all'altro vieni qui con me l'altro rispondeva ed era vero amico non posso devo andare di là questa o per quella ragione ma alla fine contro la sua volontà e il suo comodo andava di là a sinistra con l'altro questo a volte avveniva per persuasione altre volte per semplice insistenza altre ancora per un motivo qualunque cioè non avveniva mai per una ragione logica in quella imposizione e in quella subordinazione c'era sempre qualcosa di spontaneo come di istintivo e come in questa semplice occasione e in tutte le altre occasioni dalle meno alle più importanti capisce bene la situazione capisco ma che diavolo c'è di strano in questo e quanto di più naturale ci sia sarà adesso ci arriviamo quel che le chiedo è di notare che è esattamente il contrario della dottrina anarchica consideri bene che questo avveniva in un piccolo gruppo in un gruppo senza influenza e senza importanza in un gruppo a cui non era affidata la soluzione di nessuna questione grave o la decisione su qualche argomento di peso e rifletta che avveniva in un gruppo di persone che si era coagulato soprattutto per fare ciò che poteva a vantaggio dell'anarchia e cioè per combattere per quanto fosse possibile le finzioni sociali e creare per quanto fosse possibile la libertà futura ha considerato e adesso ci rifletta bene un piccolo gruppo di persone sincere vi garantisco che erano sincere creato e coagulato esclusivamente per lavorare per la causa della libertà dopo alcuni mesi aveva ottenuto solo una cosa di positivo e concreto la creazione al suo interno della tirannia e pensi a quale tirannia non era una tirannia derivata dall'opera delle finzioni sociali che mai grado sia condannabile fino a un certo punto sarebbe comprensibile per alcuni anche se meno da noi che combattevamo quelle funzioni in fondo vivevamo in una società basata su queste finzioni e non era tutta colpa nostra se non riuscivamo a sfuggire completamente alla loro azione ma non era questo quelli che comandavano sugli altri o quelli che portavano dove meglio preferivano non lo facevano in forza del denaro o della posizione sociale o di una qualunque autorità di natura fittizia che si erano arrogati lo facevano per l'azione di qualcosa di esterno alle finzioni sociali voglio dire questa tirannia era relativamente alle finzioni sociali una tirannia nuova ed era una tirannia esercitata su persone essenzialmente già oppresse dalle finzioni sociali era per giunta una tirannia esercitata tra persone la cui sincera intenzione altro non era che distruggere la tirannia e creare la libertà adesso faccia il caso di un gruppo molto più grande molto più influente che si occupa già di questioni importanti e di decisioni di carattere fondamentale supponga che questo gruppo si impegni come il nostro alla formazione di una società libera e adesso mi dica se attraverso quel coacervo di tirannia incrociate intravede qualche società futura che assomiglia a una società libera o a una umanità degna di se stessa già è molto strano è strano è vero e guardi che ci sono anche aspetti secondari molto strani per esempio la tirannia dell'aiuto la che? la tirannia dell'aiuto tra di noi c'era chi invece di comandare sugli altri invece di imporsi sugli altri al contrario gli aiutava in tutto quello che poteva sembra il contrario non è vero ma guardi che è la stessa cosa è la stessa nuova tirannia è allo stesso modo andar contro i principi anarchici questa è bella in che modo? aiutare qualcuno amico mio è considerarlo incapace ma se non è incapace lo trattate come tale o lo considerate tale allora questa è nel primo caso una tirannia e nel secondo caso una forma di disprezzo nel secondo caso si parte per lo meno inconsapevolmente dal principio che l'altro è disprezzabile e indegno o incapace della libertà torniamo al nostro caso vede bene che questo aspetto era gravissimo passi a lavorare per la società futura senza aspettarci che questa ci ringrazi o rischiando addirittura che questa non arrivi mai tutto questo passi ma quel che era troppo era lavorare per un futuro di libertà e non fare di positivo altro che creare tirannia e non solo tirannia ma una tirannia nuova una tirannia esercitata da noi stessi gli oppressi gli uni su gli altri beh questo non poteva proprio andare mi mise a pensare c'era un errore una qualche perversione le nostre intenzioni erano buone le nostre dottrine sembravano esatte erano sbagliate le nostre azioni certo dovevano essere loro ma dove diavolo era l'errore cominciai a riflettere sul problema e diventavo pazzo un giorno d'improvviso come sempre accade in questi casi trovai la soluzione è stato il grande giorno delle mie teorie anarchiche il giorno in cui scopri per così dire la tecnica dell'anarchia mi guardò un momento senza vedermi poi riprese con lo stesso tono pensai così qui abbiamo una tirannia nuova una tirannia che non discende da finzioni sociali allora da dove viene? verrà da caratteristiche naturali se è così addio società libera se è una società in cui operano solamente le qualità naturali degli uomini quelle qualità con cui si nasce che dipendono solo dalla natura e sulle quali non abbiamo alcun potere se è una società in cui agiscono solo quelle qualità è un accumulo di tirannie chi è che muoverebbe anche solo il dito mignolo per l'avvento di quella società tirannia per tirannia rimanga quella che c'è almeno è quella a cui siamo abituati e che per questo fatalmente soffriamo meno di quanto soffriremo una tirannia nuova e con il carattere terribile di tutte le cose tiranniche che derivano direttamente dalla natura la non esistenza di una possibile rivolta contro di esse come non c'è rivoluzione contro il dover morire o contro il nascere bassi quando si preferisca essere nati alti del resto le ho già provato che se per qualche ragione la società anarchica non è realizzabile allora in quanto più naturale che qualunque altra è la società borghese che deve esistere ma questa tirannia che nasceva così tra di noi era realmente derivata da qualità naturali e che cosa sono le qualità naturali sono il grado di intelligenza di immaginazione di volontà eccetera con cui ognuno di noi nasce questo per l'aspetto mentale è chiaro perché le qualità naturali fisiche non vengono per caso ora un tipo che senza una qualche ragione derivata dalle finzioni sociali comanda un altro lo fa perché gli è superiore in una o in un'altra delle qualità naturali lo domina per l'uso delle sue qualità naturali ma c'è una cosa da vedere quell'uso delle qualità naturali sarà legittimo cioè sarà naturale bene qual è l'uso naturale delle nostre qualità naturali e servire i fini naturali della nostra personalità ma dominare qualcuno sarà un fine naturale della nostra personalità può esserlo c'è un caso in cui può esserlo è quando quel qualcuno per noi si trova nella posizione di nemico per l'anarchico è chiaro chi si trova nella posizione di nemico è qualunque rappresentante delle finzioni sociali e della sua tirannia nessun altro perché tutti gli altri uomini sono uomini come lui e compagni naturali ora vede bene che il caso della tirannia che stavamo creando tra noi non era di questo tipo la tirannia che stavamo creando era esercitata su uomini come noi compagni naturali e per di più su uomini due volte nostri compagni perché lo erano anche per la comunione degli stessi ideali conclusione questa nostra tirannia se non era derivata dalle finzioni sociali del pari non era derivata dalle qualità naturali era derivata viceversa da un'applicazione sbagliata da una corruzione delle qualità naturali e quella corruzione da dove proveniva doveva provenire da una delle due cose o dal fatto che l'uomo è naturalmente malvagio e pertanto tutte le qualità naturali sono naturalmente corrotte oppure da una corruzione derivante dalla lunga permanenza dell'umanità in un'atmosfera di finzioni sociali tutte creatrici di tirannia e tendente pertanto a rendere ormai istintivamente tirannico l'uso più naturale delle qualità più naturali bene di queste due ipotesi qual è la vera era impossibile determinarlo in maniera soddisfacente e cioè in maniera rigorosamente logica o scientifica il razzocino non può avere a che fare con il problema perché esso è di ordine storico o scientifico e dipende dalla conoscenza dei fatti da parte sua anche la scienza non ci aiuta perché per quanto indietro si torni nella storia troviamo sempre l'uomo che vive sotto questo o un altro sistema di tirannia sociale e pertanto sempre in uno stato che non ci permette di verificare come sia l'uomo quando vive in circostanze puramente e interamente naturali se non c'è modo di determinarlo con certezza dobbiamo propendere per l'ipotesi più probabile e la maggior probabilità è nella seconda ipotesi è più naturale supporre che la lunghissima permanenza dell'umanità in finzioni sociali creatrici di tirannia faccia nascere ogni uomo già con le sue qualità naturali corrotte nel senso che tiranneggia spontaneamente anche su chi non si vuole tiranneggiare piuttosto che supporre che le qualità naturali possano essere naturalmente corrotte il che in qualche modo rappresenta una contraddizione per questo il pensatore propende come ho fatto io con una quasi assoluta certezza per la seconda ipotesi dunque una cosa è evidente nell'attuale stato sociale non è possibile che un gruppo di uomini per benintenzionati che siano tutti per preoccupati che siano solo a combattere le finzioni sociali a lavorare per la libertà e a lavorare insieme non creino spontaneamente tra loro tirannia in aggiunta a quella delle finzioni sociali senza così distruggere nella pratica tutto quanto vogliono nella teoria senza involontariamente intralzare il più possibile proprio quello che vogliono promuovere che fare allora è molto semplice lavorare tutti per lo stesso fine ma separati separati sì non ha seguito il mio ragionamento certo e non ritiene logica non considera fatale questa conclusione è vero sì è vero ma non capisco bene com'è questo ora mi spiego ho detto lavorare tutti per lo stesso fine ma separati lavorando tutti per lo stesso scopo anarchico ognuno contribuisce con il suo operato alla distruzione delle finzioni sociali che è lo scopo del nostro agire e alla creazione della libera società del futuro e lavorando separati non possiamo in nessun modo creare una nuova tirannia perché nessuno agisce sull'altro e pertanto non può dominandolo limitargli la libertà né aiutandolo soffocargliela lavorando così separati allo stesso fine anarchico abbiamo due vantaggi quello dello sforzo unito e quello della non creazione di una nuova tirannia continuiamo uniti perché lo siamo moralmente e lavoriamo allo stesso modo per lo stesso fine continuiamo ad essere anarchici perché ognuno lavora per la società libera ma cessiamo di essere traditori volontari o involontari della nostra causa cessiamo anche di poterlo essere perché attraverso il lavoro anarchico isolato ci collochiamo al di fuori dell'influenza deleteria delle finzioni sociali nel loro riflesso ereditario sulle qualità che la natura ci ha dato è chiaro che questa tattica si applica a quello che ho chiamato il periodo di preparazione alla rivoluzione sociale distrutte le difese borghesi e ridotta la società intera allo stato di accettazione delle dottrine anarchiche rimanendo da fare solo la rivoluzione sociale allora per il sovvertimento finale non si può continuare ad agire separatamente ma in quel momento la società libera sarebbe virtualmente già arrivata le cose andrebbero già in un'altra maniera la tattica a cui mi riferisco riguarda solo l'azione anarchica in seno alla società borghese come adesso come nel gruppo cui appartenevo era quello finalmente il vero processo anarchico insieme non volevamo nulla che valesse la pena e per di più ci tiranneggiavamo e creavamo impedimento gli uni agli altri e alle nostre teorie separati per quanto poco potessimo ottenere perlomeno non ci intralciavamo la libertà non creavamo nuova tirannia quello che ottenevamo per poco che fosse era realmente ottenuto senza svantaggio né perdita e per di più lavorando così separati imparavamo ad avere maggiore fiducia in noi stessi a non appoggiarci l'uno all'altro a divenire già più liberi a prepararci tanto personalmente che nei confronti altrui con il nostro esempio per il futuro questa scoperta mi rese raggiante andai subito ad esporla ai miei compagni è stata una delle poche volte in vita mia in cui sono stato stupido si immagini che andavo tanto fiero della mia scoperta che speravo fossero d'accordo non furono d'accordo è chiaro si ribellarono amico mio si ribellarono tutti alcuni più altri meno tutti protestarono non era così così non poteva essere ma nessuno diceva che cos'era o cosa doveva essere razonai e razonai e risposta ai miei ragionamenti non ottenni altro che parole spazzatura espressioni come quelle con cui i ministri rispondono alle camere quando non hanno risposta alcuna allora mi resi conto a quali bestie e pusillanimi mi ero mescolato gettarono la maschera quella cricca era nata schiava volevano essere anarchici a spese altrui volevano la libertà sempre che fossero gli altri a trovargliela sempre che gli fosse concesse come un re concede un titolo erano quasi tutti così i grandi lacche e lei si arrabbiò se mi arrabbiai mi infuriai presi a scalpitare feci fuoco e fiamme venni quasi alle mani con due o tre di loro e finì per andarmene via mi isolai mi venne una nausea di tutto quel pecorume che nemmeno si immagina smisi quasi di credere nell'anarchia decisi quasi di non interessarmene più ma passati un po' di giorni tornai in me pensai che l'ideale anarchico era superiore a queste bagatelle non volevano essere anarchici lo sarei stato io loro volevano solo giocare ai libertari io non ero disposto a giocare con una cosa del genere loro non avevano la forza per combattere se non affilandosi gli uni agli altri e creando tra sé un nuovo simulacro della tirannia che dicevano di voler combattere che lo facessero allora i stupidi se non servivano ad altro ma io non avrei continuato ad essere borghese per tanto poco avevo stabilito che nella vera anarchia ognuno deve con le sue stesse forze creare la libertà e combattere le finzioni sociali allora io avrei creato la libertà e combattuto le finzioni sociali con le mie stesse forze nessuno voleva seguirmi nel vero cammino anarchico l'avrei seguito io per lui sarei andato solo con le mie forze con la mia fede privo financo dell'appoggio mentale di coloro che erano stati i miei compagni contro le finzioni sociali intere non dico che fosse un bel gesto né un gesto eroico fu semplicemente un gesto naturale se il cammino doveva essere seguito da ciascuno separatamente non avevo bisogno di nessun altro per seguirlo bastava il mio ideale basandomi su questi principi e su queste circostanze decise da solo di combattere le finzioni sociali interruppe per un momento il discorso che gli era diventato caldo e fluente lo riprese di lì a poco con la voce già più tranquilla è uno stato di guerra pensai tra me e le finzioni sociali benissimo cosa posso fare contro le finzioni sociali lavoro da solo così da non creare in nessuna maniera una qualunque tirannia come posso collaborare da solo alla preparazione della rivoluzione sociale alla preparazione dell'umanità per la società libera devo scegliere uno dei due processi dei due processi che ci sono nel caso è chiaro che non mi possa servire di entrambi i due processi sono l'azione indiretta e cioè la propaganda e l'azione diretta di qualunque tipo prima pensai all'azione indiretta cioè alla propaganda che propaganda potevo fare da me solo eccezione fatta per quella propaganda che si fa sempre nelle conversazioni con questo o quello a caso e servendoci di tutte le possibilità quello che volevo sapere era se l'azione indiretta fosse una via lungo la quale potessi incamminare la mia attività di anarchico energicamente cioè in modo da produrre risultati sensibili capii subito che non era possibile non sono un oratore e non sono un scrittore voglio dire sono capace di parlare in pubblico se è necessario e sono capace di scrivere un articolo di giornale ma quello che volevo verificare era se la mia indole naturale indicava che specializzandomi nell'azione indiretta di qualunque delle due specie o di entrambe potevo ottenere risultati più positivi per l'idea anarchica che specializzando i miei sforzi in qualche altro modo bene l'azione è sempre più fruttuosa della propaganda eccetto che per gli individui la cui indole li connota essenzialmente come propagandisti i grandi oratori capaci di elettrizzare le folle e farsi seguire o i grandi scrittori capaci di affascinare e convincere con i loro libri non mi sembra di essere molto vanitoso ma se lo sono perlomeno non mi vanto di quelle qualità che non possiedo e come le ho detto non mi sono mai giudicato un oratore o uno scrittore per questo abbandonai l'idea dell'azione indiretta come strada da seguire nella mia attività di anarchico per esclusione era costretto a scegliere l'azione diretta cioè lo sforzo applicato alla pratica della vita alla vita reale non era l'intelligenza ma l'azione molto bene così sarebbe stato dunque dovevo applicare alla vita pratica il processo fondamentale dell'azione anarchica che avevo già chiarito combattere le finzioni sociali senza creare una nuova tirannia creando già se fosse stato possibile qualcosa della libertà futura ma come diavolo si fa tutto questo in pratica cos'è dunque combattere nella pratica combattere nella pratica è la guerra o perlomeno è una guerra come si fa la guerra alle finzioni sociali e prima di tutto come si fa la guerra come si sconfigge il nemico in qualunque guerra o in un modo o nell'altro o uccidendolo cioè distruggendolo o imprigionandolo cioè soggiogandolo riducendolo all'inattività distruggere le finzioni sociali non potevo farlo distruggere le finzioni sociali lo poteva fare solo la rivoluzione sociale fino ad allora le finzioni sociali potevano vacillare appese ad un filo ma distrutte lo sarebbero state con l'avvento della società libera e la caduta positiva della società borghese il massimo che potevo fare in questo senso era distruggere distruggere nel senso fisico di uccidere questo quel membro delle classi rappresentative della società borghese studiai la situazione e compresi che era un'idiozia supponga che avesse ucciso un paio o una dozzina di rappresentanti della tirannia delle finzioni sociali il risultato le finzioni sociali le finzioni sociali avrebbero vacillato di più no signore le finzioni sociali non sono come la situazione politica che può dipendere da un ristretto numero di persone talvolta da una sola quello che c'è di malvagio nelle finzioni sociali sono loro stesse nel loro insieme e non gli individui che le rappresentano se non per il fatto di essere loro rappresentanti un attentato di ordine sociale inoltre provoca sempre una reazione non solo tutto rimane uguale ma il più delle volte peggiora e per di più supponga come ovvio che dopo un attentato io fossi stato braccato braccato e liquidato in un modo o nell'altro e supponga che io avessi fatto fuori una dozzina di capitalisti alla fine dei conti che risultato avrebbe dato tutto questo con la mia liquidazione anche se non fosse coincisa con la morte ma semplicemente con la prigione o l'esilio la causa anarchica avrebbe perduto un combattente e i dodici capitalisti che io avevo steso non erano dodici elementi che la società borghese aveva perduto perché gli elementi componenti della società borghese non sono elementi da combattimento ma puramente passivi poiché il combattimento non è contro i membri della società borghese ma contro l'insieme delle finzioni sociali su cui quella società si poggia bene le finzioni sociali non sono persone su cui si possa sparare capisce? non era come il soldato di un esercito che uccide dodici soldati dell'esercito avverso era come un soldato che uccide dodici civili della nazione dell'altro esercito e uccidere stupidamente perché non si elimina nessun combattente pertanto non potevo pensare di distruggere le finzioni sociali né completamente né parzialmente dovevo soggiogarle vincerle soggiogandole riducendole all'inattività d'improvviso puntò verso di me l'indice destro è stato quello che ho fatto ritirò subito la mano e continuò cercai di scoprire qual era la prima e più importante delle finzioni sociali sarebbe stata più di qualunque altra quella che dovevo tentare di soggiogare tentare di ridurre all'inattività la più importante della nostra epoca perlomeno è il denaro come soggiogare il denaro o per meglio dire la forza o la tirannia del denaro liberandomi dalla sua influenza dalla sua forza divenendo dunque superiore alla sua influenza riducendolo all'inattività per quanto mi riguardava per quanto riguardava me capisce perché ero io che lo combattevo se l'avessi ridotto all'inattività rispetto a tutti non sarebbe stato soggiogarlo ma distruggerlo perché sarebbe stato farla finita completamente con la finzione del denaro ora già le ho provato che qualunque finzione sociale può essere distrutta solo dalla rivoluzione sociale trascinata con le altre nella caduta della società borghese come potevo diventare superiore alla forza del denaro il modo più semplice era di allontanarmi dalla sua sfera di influenza e cioè dalla civiltà andare in campagna a mangiare radici e bere acqua dalle sorgenti andare nudo e vivere come un animale questo però anche se non ci fossero state difficoltà nel farlo non era combattere una finzione sociale non era nemmeno combattere era fuggire infatti chi evita di ingacciare un combattimento è in esso sconfitto è sconfitto moralmente perché non si è battuto il procedimento doveva essere un altro un procedimento di lotta e non di fuga come soggiogare il denaro combattendolo come sfuggire la sua stessa influenza e tirannia senza evitarlo c'era un solo modo averne averne in quantità sufficiente da non sentirne l'influenza e quanto più ne avessi avuto tanto più sarei stato libero dalla sua influenza fu quando compresi questo chiaramente con tutta la forza del mio convincimento anarchico e tutta la mia logica di uomo d'insegno che entrai nella fase attuale quella commerciale bancaria amico mio del mio essere anarchico si riprese un momento dall'impeto nuovamente crescente del suo entusiasmo nell'esposizione poi riprese il suo racconto ancora con un certo calore dunque si ricorda di quelle difficoltà logiche che mi erano sovvenute all'inizio della mia carriera di anarchico cosciente e si ricorda che le ho detto che a quel tempo le risolsi artificiosamente col sentimento e non con la logica cioè l'ho annotato lei stesso e molto bene che non le avevo risolte con la logica mi ricordo sì e si ricorda che le dissi come in seguito quando infine avevo trovato il vero modo di agire anarchicamente le risolsi una volta per tutte con la logica sì bene ora veda come le risolsi le difficoltà erano queste non è naturale lavorare per qualcosa qualunque essa sia senza un compenso naturale e cioè egoiste e non è naturale concentrare i nostri sforzi verso un fine qualunque senza avere il compenso di sapere che quel fine sarà raggiunto le due difficoltà erano queste veda bene come le risolve l'agire anarchico che il mio ragionamento mi fece scoprire come l'unico vero il risultato è che mi sarai arricchito pertanto compenso egoista il procedimento è diretto al conseguimento della libertà bene diventando superiore alla forza del denaro cioè liberandomi da tale forza ottengo la libertà ottengo la libertà solo per me è vero ma come le ho provato la libertà per tutti può venire solo dalla distruzione delle finzioni sociali per mezzo della rivoluzione sociale e io da solo non posso farla il nocciolo è questo miro alla libertà ottengo la libertà ottengo la libertà che posso perché è chiaro non posso conseguire quella che non posso e osservi pur non considerando il ragionamento che rivela questo agire anarchico come l'unico vero il fatto che esso risolva automaticamente le difficoltà logiche che si possono opporre a qualunque agire anarchico prova di per sé che è vero così è stato questo il procedimento che ho seguito mi si mano all'impresa di soggiogare la finzione denaro arricchendomi si riuscii impiegai un po' di tempo perché la lotta è stata dura ma ci sono riuscito evito di raccontarle che cosa fu e come è stata la mia vita commerciale e bancaria poteva essere interessante soprattutto per certi aspetti ma questo non ha a che vedere col problema ho lavorato lottato guadagnato denaro ho lavorato ancora lottato ancora guadagnato ancora denaro alla fine ho guadagnato molti soldi non ho scelto i modi confesso amico mio che non ho fatto caso ai modi ho usato tutti quelli a disposizione l'accaparramento il sofisma finanziario la stessa concorrenza sleale e cosa combattevo le finzioni sociali immorali e antinaturali per eccellenza e dovevo far caso al modo lavoravo per la libertà e dovevo far caso alle armi con cui combattevo la tirannia l'anarchico stupido che tira bombe e spara sa bene che uccide e sa bene che le sue dottrine non includono la pena di morte attacca una immoralità con un crimine perché pensa che quella immoralità per essere distrutta valga un crimine è stupido per quanto riguarda il modo perché come l'ho già dimostrato quel modo è sbagliato e controproducente come modo anarchico ma quanto alla morale del modo esso è intelligente il mio modo dunque era esatto e in quanto anarchico per arricchire mi servivo legittimamente di tutti i mezzi oggi ho realizzato il mio limitato sogno di anarchico pratico e lucido sono libero faccio quello che voglio tra ciò che chiaramente è possibile fare il mio motto di anarchico era la libertà ebbene ho la libertà la libertà che per adesso è possibile avere nella nostra società imperfetta ho voluto combattere le forze sociali le ho combattute e quel che è più importante le ho sconfitte ferma ferma dissi va tutto bene ma c'è una cosa che non ha considerato le condizioni del suo operare erano come mi ha provato non solo creare la libertà ma anche non creare tirannia ma lei ha creato tirannia come accaparratore come banchiere come finanziere senza scrupoli mi scusi ma è lei che lo ha detto ha creato tirannia ha creato tanta tirannia come qualunque altro rappresentante delle finzioni sociali che dice di combattere no vecchio mio si inganna io non ho creato tirannia la tirannia che può essere scaturita dalla mia azione di lotta contro le finzioni sociali è una tirannia che non parte da me e che dunque non ho creato io sta nelle finzioni sociali non l'ho sommata a quelle quella tirannia è la tirannia specifica delle finzioni sociali e io non potevo ne era il mio scopo distruggere le finzioni sociali e lo ripeto per la centesima volta solo la rivoluzione sociale può distruggere le finzioni sociali al contrario l'azione anarchica perfetta come la mia può solo soggiogare le finzioni sociali soggiogarle solo in relazione all'anarchico che mette in pratica quel processo perché tale processo non permette una più ampia sottomissione di quelle finzioni non si tratta di non creare tirannia ma di non creare una nuova tirannia tirannia dove non c'era gli anarchici lavorando insieme influenzandosi gli uni con gli altri come le ho detto creano tra di loro al di fuori e oltre le finzioni sociali una tirannia quella sì che è una nuova tirannia quella io non l'ho creata non potevo proprio crearla per le condizioni stesse del mio operare no amico mio io ho creato solo libertà ho liberato uno mi sono liberato il fatto è che il mio agire che come le ho detto è l'unico vero agire anarchico non mi ha permesso di liberarne altri quello che ho potuto liberare l'ho liberato va bene d'accordo ma guardi che con questo ragionamento si è quasi portati a credere che nessun rappresentante delle finzioni sociali esercita tirannia e non la esercita la tirannia è delle finzioni sociali e non degli uomini che la incarnano quelli sono per così dire i mezzi di cui si servono le finzioni sociali per tiranneggiare come il pugnale è il mezzo di cui si può servire l'assassino e lei di sicuro non ritiene che eliminando i pugnali si eliminano gli assassini guardi distrugga tutti i capitalisti del mondo ma senza distruggere il capitale il giorno dopo il capitale è già nelle mani di altri continuerà attraverso quelli a esercitare la sua tirannia provi a distruggere non i capitalisti ma il capitale quanti capitalisti rimangono vede si ha ragione figliuolo il massimo il massimo il massimo di cui lei mi può accusare è di far aumentare un po' molto poco la tirannia delle finzioni sociali l'argomento è assurdo perché come le ho già detto la tirannia che non dovevo creare e che non ho creato è altra ma c'è più di un punto debole ed è che per lo stesso ragionamento lei può accusare un generale che ingaggi la lotta per il suo paese di causare al suo paese il danno agli uomini del suo stesso esercito che deve sacrificare per vincere chi va alla guerra dà e le prende si ottenga la cosa principale il resto va benissimo ma consideri un altro aspetto il vero anarchico vuole la libertà non solo per sé ma anche per gli altri mi sembra che voglia la libertà per l'umanità intera senza dubbio ma le ho già detto che attraverso il procedimento che ho scoperto essere l'unico agire anarchico ognuno deve liberare se stesso io mi sono liberato ho fatto il mio dovere contemporaneamente nei miei confronti e nei confronti della libertà perché gli altri i miei compagni non hanno fatto lo stesso io non li ho intralciati se li avessi intralciati quello sì che sarebbe stato un crimine ma io non li ho intralciati nemmeno nascondendogli il vero operare anarchico non appena l'ho scoperto l'ho detto chiaramente a tutti il modo stesso di operare mi impediva di fare di più che altro potevo fare costringerli a seguire la mia strada anche se l'avessi potuto fare non l'avrei fatto perché sarebbe stato privarli della libertà e questo era contro i miei principi anarchici aiutarli anche questo era impossibile per la stessa ragione non ho mai aiutato ne aiuto nessuno perché diminuire la libertà altrui è anch'esso contro i miei principi quello che lei censura in me è che sono una persona sola e non più persone perché mi censura mentre compio il mio dovere di liberarmi fino a dove posso compierlo perché non censura piuttosto loro per non aver compiuto il proprio va bene ma quegli uomini non hanno fatto quello che ha fatto lei naturalmente perché erano meno intelligenti di lei o con meno forza di volontà amico mio quelle già sono disuguaglianze naturali e non sociali con quelle l'anarchia non c'entra nulla il grado di intelligenza o di volontà di un individuo ha a che fare con lui stesso e con la natura le stesse finzioni sociali in questo non ci mettono né sale né pepe ci sono qualità naturali come le ho già detto che si può presumere siano state corrotte dalla lunga permanenza dell'umanità nelle finzioni sociali ma la corruzione non è nel grado della qualità che è dato totalmente dalla natura ma nell'applicazione della qualità bene una questione di stupidità o di mancanza di volontà non ha a che vedere con l'applicazione di quelle qualità ma solo con il loro grado per questo le dico quelle sono esclusivamente disuguaglianze naturali e su di esse nessuno alcun potere né c'è mutamento sociale che le modifichi così come non si può far diventare me alto o la e basso a meno che a meno che in casi di questo genere la corruzione ereditaria delle qualità naturali vada tanto lontano da coinvolgere il fondamento stesso del temperamento sì che uno nasca schiavo nasca naturalmente schiavo e pertanto incapace di qualunque sforzo per liberarsi ma in questo caso ma in quel caso in quel caso che cosa ha a che fare lui con la società libera o la libertà se un uomo nasce schiavo la libertà essendo contraria alla sua indole sarà per lui una tirannia fece una breve pausa improvviso rise forte lei disse è veramente anarchico in ogni caso fa venire da ridere anche dopo averla ascoltata paragonare quello che è lei con ciò che sono gli anarchici di queste parti amico mio già glielo ho detto glielo ho già provato e adesso glielo ripeto la differenza è solo questa loro sono anarchici solo in teoria io lo sono in teoria e in pratica loro sono anarchici mistici e io scientifico loro sono anarchici che si sottomettono io sono un anarchico che combatte e libera in una parola loro sono pseudo anarchici e io sono anarchico e ci alzammo da tavola bismona gennaio 1922 grazie a tutti